il contenuto dell'articolo come scegliere il miglior gel per sopracciglia gel sexy per sopracciglia sexy lady sopracciglio sbavato ciocco chiave segreta essence fammi un gel per sopracciglia gel per sopracciglia nyx professional make up tatuaggio della fronte di maybelline trasparente lucas apostrofo cosmetics 200 brow keratin brow vivien sabo fix aero riflam e the one gel conditioner gel per sopracciglia mascara clear art deco mezzi economici gel modellante per sopracciglia la vella art visage fix e care pro vitamin b5 evelyn correttore sopracciglia 5 in 1 modellazione premium beneficio di cabrao stiller lancome surcells frullino per sopracciglia in gel ad alta definizione un bellissimo agente di fissaggio aiuterà a posare magnificamente i capelli cattivi il gel trasparente o colorato aggiungerà volume enfatizzerà la forma e la consistenza delle sopracciglia maschererà i vuoti inoltre il prodotto proteggerà i capelli dal bruciarsi al sole li nutrirà di vitamine li renderà morbidi ed elastici come scegliere l'azione del gel dipende dal suo tipo trasparente fissaggio o modellazione impila dona lucentezza il gel è particolarmente indicato per sopracciglia folte e scure colore rende le sopracciglia luminose ed espressive riempie i punti calvi tinge i capelli chiari le classiche sfumature di grano e cioccolato sono molto diffuse più estreme verde blu rosso con scintilli colorazione gel tint fornisce fissazione e colore duraturo un effetto vivido può persistere per 2 5 settimane questa opzione è particolarmente indicata per le donne con sopracciglia leggere orare brillante gel con particelle riflettenti adatto per un'immagine solenne medico con un complesso vitaminico e minerale per il rafforzamento e la crescita dei capelli il gel colorato dovrebbe corrispondere all'ombra dei capelli o essere più chiaro di uno due toni le bionde si adattano al caramello color cenere le brune stanno meglio usando una tonalità nera il cioccolato fondente fa bene ai capelli castani le sfumature di graffite e cenere sono bionde il rosso può usare castagni dorati toni del miele prestare attenzione alla composizione del prodotto cosmetico non dovrebbe avere alcol che secca eccessivamente la pelle e i capelli provoca irritazione un buon gel dovrebbe contenere componenti premurosi e rassodanti cera d'apio cera carnauba estratti di erbe e piante ginkgo biloba ginseng mandorle eucalipto ribes vitamine a b5 b6 e pantenolo cheratina caolino oli vegetali germe di grano carie meccademia avocado olivello spinoso quando acquisti cosmetici presta attenzione al modulo di rilascio matita facile da usare uniformemente applicato molto resistente spesso contiene una formula impermeabile con cera micro cristallina marcatore fornisce una tonalità ricca e brillante può contenere lenne per l'effetto tatuaggio inchiostro facile da applicare con un pennello compatto distribuito uniformemente su tutti i peli modella la forma delle sopracciglia crema disponibile in tubo o vaso può essere impermeabile colorato il prodotto ha una consistenza spessa è uniformemente distribuito si asciuga rapidamente fissa in modo sicuro ogni capello nella giusta direzione il miglior gel per sopracciglia la maggior parte dei gel sono disponibili con applicatori o pennelli come il mascara per un risultato di alta qualità applicare le formulazioni di crescita anti capelli quindi dipingere con cura sulla base della linea pettina i capelli dal basso verso l'alto muoviti verso le tempie gel sexy per sopracciglia sexy lady un gel fixer trasparente per sopracciglia contiene componenti premurosi estratto di kiwi pantenolo e ceramidi il gel può essere applicato in uno strato le sopracciglia saranno accatastate sottolineate lucide per tutto il giorno una comoda spazzola a forma di cono con setole lunghe e corte aiuta a trattare rapidamente ed efficacemente anche i peli più piccoli senza toccare la pelle il gel colorato per lo styling delle sopracciglia conferisce loro un colore marrone, marrone chiaro e marrone scuro tali tonalità sono adatte per bionde, capelli castani, biondi per un risultato più duraturo, si consiglia di applicare il prodotto al mattino e alla sera per un mese il prezzo medio è di 250 rubli 10 millilitri benefici senza odore non contiene alcol il tubo si attorciglia strettamente il prodotto non si asciuga a lungo pigmentazione satura consistenza di media densità si adatta bene all'ombra una matita tonalità naturali senza rosso comodo limitatore, il pennello ottiene la quantità ottimale di fondi, non sentito, facilmente lavabile via con acqua micellare per saperne di più meso scoter per il viso foto e recensioni come usare un meso scoter viso a casa svantaggi si asciuga a lungo, i peli si uniscono un po' apostrofo sopracciglio sbavato cioco chiave segreta il gel con pantenolo dona sopracciglia marrone scuro e marrone chiaro lo strumento viene fornito con un classico pennello tondo le setole di diverse lunghezze distribuiscono uniformemente il gel attraverso i peli dopo l'applicazione, l'ombra si scurisce molto, quindi è necessario colorare con cura le sopracciglia la composizione non è impermeabile, potrebbe fuori uscire dalla pioggia o dal calore il prezzo medio è di 480 rubli 5 grammi benefici corregge bene riempie gli spazi vuoti applicato senza troppa pressione si asciuga rapidamente facilmente lavabile via con acqua svantaggi sfumature di rosso il pennello guadagna molti fondi forma di grumi instabile essence fammi un gel per sopracciglia mascara con glicerina e microfibre per un riempimento di alta qualità dello spazio tra i capelli ci sono due tonalità nella linea, marrone chiaro e marrone scuro i peli sono tinti qualitativamente, il risultato è molto naturale, i bordi sono sottolineati, ben posati l'effetto dura tutto il giorno con qualsiasi tempo il costo medio delle carcasse italiane è di 240 rubli 4 millilitri benefici sovrappone perfettamente matita e ombra le sfumature non zenzero, non scorre, comodo da usare l'applicatore il pennello non guadagna molto, crea un piccolo volume facile da rimuovere con qualsiasi schiuma o gel detergente svantaggi puzza gel per sopracciglia NYX Professional Makeup la società americana NUX ha rilasciato una linea di gel per sopracciglia ogni ragazza sarà in grado di scegliere una tonalità adatta a se stessa nera, marrone scuro, marrone chiaro, cioccolato, caffè espresso il gel è disponibile in un tubo morbido e compatto con un naso lungo per una comoda estrusione della composizione il prodotto è impermeabile, consistenza cremosa, una volta applicato, è prima liquido, ma poi si indurisce rapidamente usando NYX Gel, puoi facilmente creare archi grafici per sopracciglia o creare ombre naturali la composizione riempie perfettamente i punti calvi maschera le cicatrici l'effetto può durare fino a tre giorni il gel viene lavato via con mezzi per rimuovere cosmetici impermeabili il costo medio è di 590 rubli 10 millilitri benefici senza odore fissazione affidabile consumo economico tonalità naturali senza rosso comodo da usare non forma grumi non imbrattato se strofinato con una mano, sulla confezione un'istruzione fotografica dettagliata per l'uso svantaggi nessun pennello per l'applicazione tatuaggio della fronte di Maybelline tinta di produzione coreana di tonalità marrone chiaro marrone, marrone scuro in un tubo compatto è molto comodo lavorare con un pennello ottiene la giusta quantità di composizione e la distribuisce uniformemente dopo l'applicazione, la tinta viene mantenuta sui peli per circa 30 minuti quindi rimossa con un film il risultato è molto naturale dura due o tre giorni lavare i residui di pigmento con acqua micellare il prezzo medio di una tinta è di 500 rubli 4,6 millilitri benefici dopo che l'applicazione non scorre non provoca disagio rimozione in dolore del film la composizione non provoca allergie svantaggi piccola tavolozza bisogno di essere applicato spesso dopo la rimozione pezzi di pellicola rimangono sulle sopracciglia punto e virgola quando si lava via l'ombra si trasforma in una rossa macchia principalmente la pelle il pigmento non è uniforme trasparente composizioni vendute con vari gradi di fissazione possono essere usati separatamente per la posa di sopracciglia folte o applicati su ombre matite mascara alcuni composti si scuriscono nel tempo diventano torbidi ma ciò non influisce sulla qualità del trucco Lucas Cosmetics 200 Brow Keratin Brow un gel leggero con un comodo pennello a forma di cono aiuterà a mettere in ordine le sopracciglia enfatizzando la loro tonalità naturale il pennello raccoglie bene ogni pelo e applica la composizione in uno strato sottile per una fissazione affidabile si consiglia di macchiare le sopracciglia più volte se non tocchi le sopracciglia il risultato durerà 6-8 ore prezzo 360 rubli 6 millilitri per saperne di più cosa bere il tè con perdita di peso latte zenzero verde e tè al miele come bere per dimagrire benefici senza odore non grasso e non appiccicoso non cambia la trama nel tempo la spazzola morbida raccoglie bene la composizione non si attacca e non appesantisce i capelli facilmente lavabile via con acqua sulla confezione informazione sul prodotto in russo svantaggino Vivian Sabo Fix Air usare una spazzola rotonda di grandi dimensioni con densi villi è molto conveniente il pennello separa e impila perfettamente anche i capelli più duri la formula gelatinosa aiuta a cambiare facilmente la forma delle sopracciglia sollevandole o abbassandole leggermente un gel non appiccicoso di medio spessore viene applicato uniformemente si asciuga in 30 secondi prezzo 135 rubli 6 millilitri benefici può essere applicato su ombre matita o tinta limitatore conveniente mantiene la forma del sopracciglio nella neve e nella pioggia non appiccicoso non lascia l'effetto della tenuta consumo economico svantaggi puzza oriflame the one gel conditioner il balsamo per gel contiene biotina pantenolo glicerina ripristina e rinforza i capelli può essere applicato giorno e notte un morbido pennello applicatore a forma di cono in fibre di nylon pettina ai peli ottiene la quantità ottimale di composizione distribuendola uniformemente la consistenza leggera non si fa sentire sulle sopracciglia non si attacca e non le rende più pesanti prezzo 650 rubli 8 millilitri benefici aroma di frutta limitatore conveniente consistenza omogenea non appiccicosa rapidamente assorbito da volume stimola la crescita di nuovi capelli va bene con le ombre il mascara la matita nessuna irritazione svantaggi no gel per sopracciglia mascara clear art deco per un elegante modellazione delle sopracciglia e dare loro una lucentezza umida prova il gel di art deco contiene olio di ricino per rafforzare e migliorare la crescita dei capelli dopo l'applicazione il gel modellante si asciuga per circa un minuto quindi avrà il tempo di posare correttamente la fronte si consiglia di applicare una quantità minima di prodotto altrimenti apparirà una sensazione di oppressione il gel si staccherà con piccoli fiocchi bianchi con una corretta elaborazione la composizione non appesantisce le sopracciglia le fissa in modo affidabile per l'intera giornata prezzo 500 rubli 10 millilitri benefici distribuzione uniforme senza odore sovrapposto ad altri prodotti per le sopracciglia facilmente rimosso con olio micellare punto e virgola lascia un sopracciglio bagnato non provoca reazioni allergiche svantaggi limitatore scomodo pennello medio duro che pettina male le sopracciglia folte mezzi economici tra i gel di bilancio sono molto efficaci e persistenti prodotti di altissima qualità della produzione nazionale polatta garantiscono la conservazione della linea ideale di sopracciglia per 8-12 ore ci sono prodotti senza alcol con sostanze nutritive pantenolo olio di ricino seta idrolizzata gel modellante per sopracciglia la velli il gel trasparente o marrone si adatta bene alle sopracciglia e alle ciglia le fissa perfettamente può essere combinato con ombre matita mascara la composizione è molto leggera quando applicata in un singolo strato non si fa sentire sulle sopracciglia se non si strofina con le mani la fissazione dura più di 9 ore allo stesso tempo le sopracciglia sembrano naturali senza lucentezza bagnata innaturale prezzo 100 rubli 9 millilitri benefici piacevole profumo floreale aggiunge volume senza rivestimento bianco non si sbriciola non irrita la pelle afferra rapidamente punto e virgola buon limitatore il tubo si chiude ermeticamente svantaggino art visage fix e care pro vitamin b5 il gel di produzione domestica non irrita gli occhi e la pelle contieni di pantenolo per elasticità lucentezza crescita dei capelli lo strumento può essere utilizzato con ipersensibilità rimosso con acqua o latte per rimuovere il trucco gel trasparente o colorato marrone marrone chiaro o marrone scuro viene venduto per 120 rubli 5 millilitri benefici senza alcol consumo economico buon odore il gel colorato riempie i punti calvi tinge piccoli peli correzioni per 4-8 ore è combinato con cosmetici decorativi non scorre sotto la pioggia o la neve per saperne di più olio di olivello spinoso per la crescita e il rafforzamento dei capelli maschera maschera benefici e applicazioni svantaggi ostruire i pori un gel trasparente diventa sporco nel tempo quando si chiude il tubo il prodotto può essere spremuto Evelyn correttore sopracciglia 5 in 1 un correttore unico con pantenolo setta idrolizzata olio di ricino contribuirà a creare la forma perfetta delle sopracciglia sottolineando nel colore lo strumento rinforza i peli dona volume aggiuntivo il pennello a testa rotonda big ball brush aiuterà ad applicare delicatamente il correttore senza toccare la pelle il gel il gel non è impermeabile quindi non dovresti usarlo in calore pioggia o neve per sopracciglia rare e sottili puoi acquistare mascara marrone scuro o marrone chiaro un correttore in colore è adatto per il fissaggio di quelli spessi prezzo 200 rubli 9 millilitri benefici consistenza leggera effetto naturale è combinato con altri cosmetici decorativi buone macchie si blocca rapidamente non irrita la pelle svantaggi l'ombra chiara è un po' rossastra quando si applica una grande quantità lascia grumi si diffonde quando viene toccato a mano modellazione premium i cosmetici di lusso sono prodotti da importanti aziende mondiali e superano numerosi test di qualità spesso i prodotti premium sono ipoallergenici colpiscono delicatamente ma efficacemente la pelle e l'attaccatura dei capelli la composizione può contenere componenti di cura un estratto di rosa rosmarino cera d'api e cera carnauba beneficio di cabrau una delle migliori creme a base di cera d'api e cera carnauba adatta per scolpire riempire e enfatizzare la linea del sopracciglio sono in vendita tonalità fredde e calde biondo chiaro biondo dorato marrone chiaro marrone marrone scuro marrone nero il correttore viene fornito con una spazzola ad angolo acuto che applica con precisione e facilità il prodotto la consistenza della crema è molto dura come le ombre pressate lo strumento è ben digitato sul pennello e si fonde bene tra i capelli il rossetto si blocca rapidamente quindi è necessario lavorarci il più rapidamente possibile di conseguenza il pigmento colora perfettamente la pelle e i capelli la formula resistente all'acqua aiuta a mantenere il trucco per tutto il giorno un prodotto di fabbricazione americana può essere campionato in un tubo in miniatura per 900 rubli 1,5 grammi o in una confezione più grande per 1800 rubli 3 grammi benefici vasta gamma di colori tonalità saturate consumo economico facilmente lavabile via con acqua micellare olio idrofilo giace su un'ombra e una matita non rotola giù durante il giorno non appesantisci i capelli svantaggi dopo l'apertura si asciuga rapidamente Stealer Lancome Surchels puoi correggere la forma delle sopracciglia e colorarle con un rimedio francese di Lancome in vendita mascara universale in gel e tinta trasparente per bionde, donne dai capelli castani, brune il pennello in miniatura ricorda un cuore a forma, i villi sono lunghi alla base, corti alla fine il pennello non graffia la pelle, guadagna la giusta quantità di mascara, tinge solo i peli la fissazione e il colore dura più di 14 ore è possibile acquistare una clip per le sopracciglia per 2600 rubli 6,5 millilitri benefici non lasciagrumi la fissazione persiste anche dopo essersi fregato le mani resistenza all'acqua facile da lavare con la schiuma contiene estratto di rosa consumato economicamente svantaggi nel calore può rotolare frullino per sopracciglia in gel ad alta definizione lo stile professionale delle sopracciglia è possibile con il prodotto di lusso del marchio inglese il gel domerà rapidamente anche i capelli più cattivi li riparerà per tutto il giorno la composizione in colore può essere utilizzata separatamente o applicata su una matita ombretto crema l'applicatore leggermente curvo pettina e leviga i capelli distribuendo uniformemente la composizione il prezzo medio del blocco per sopracciglia 2900 rubli 9 millilitri benefici ipo allergenico non si attacca e non appesantisci i capelli non si sbricela durante il giorno spazzola in silicone a doppia faccia buon limitatore svantaggino